Il Centro Sportivo Italiano Fano, Comitato Provinciale Pesaro-Urbino, apre le iscrizioni per il Centro Estivo Sportivo a Pesaro. Bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, suddivisi per gruppi, saranno seguiti da uno staff altamente specializzato per trascorrere le mattinate estive in compagnia, tra giochi, divertimento e allegria. Ti aspettiamo presso la Scuola Primaria Don Milani, quartiere Villa San Martino, dalle 8 alle 13, dal lunedì al venerdì a partire dal 14 giugno. Novità per l'estate 2021, prima settimana gratuita per tutti gli iscritti.